E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo video unboxing della versione Collector Edition di Ghost Recon Wildlands che come promesso nel vlog annuncio del live stream che vi ricordo a tutti che ci sarà domani sera 7 marzo dell'ora 20.30 sul mio canale di YouTube proprio su Ghost Recon. Allora, come prima cosa, ragazzi, tutto quello che vedete è tutto quello che c'è all'interno quindi del nostro Collector Edition. Come prima cosa abbiamo il coperchio, quindi con scritto Calavera Collector Case, niente di speciale, Ghost Recon Wildlands. Allora, partiamo subito a destra, piccolo cartoncino con i ringraziamenti della Ubisoft Store di aver acquistato il nostro prodotto che come potete vedere grazie per aver scelto Ubisoft Store, quindi niente di speciale. A sinistra abbiamo il nostro cartoncino con scritto Ghost Recon con all'interno il nostro gioco, io ho preso in versione PC dove all'interno quindi avremo la nostra copia fisica del gioco, come potete vedere normalissima, con all'interno 6 dischi di installazione che quindi chi ha problemi di connessione come tanti può usare tranquillamente i dischi, ma io avendo la fibra l'ho scaricato direttamente. Oltre a questo abbiamo i fogli praticamente con scritto la Deluxe Edition, quindi con oggetti speciali avendo per ordinato il Season Pass del gioco direttamente, quindi avremo il nostro codice per il Season Pass e il nostro codice d'attivazione del gioco comunque da dover riscattare. Oltre a questo ragazzi abbiamo un piccolo disco quindi con la soundtrack di Ghost Recon che si potrà anche tranquillamente acquistare con Uplay Pointed direttamente dallo store Uplay o PlayStation Store o qualunque insomma sia la vostra piattaforma. Oltre a questo abbiamo un piccolo fagottino quindi con stile insomma del gioco dei cittadini dove all'interno avremo l'istruzione per collegare le nostre cuffie quindi queste qua ragazzi, queste qua sono funzionali ve lo dico, non sono solo per bellezza, si usano. Il nostro kit per insomma istruzioni per attaccarle, avremo oltretutto anche la nostra mappa di cui adesso ragazzi ve la apro, dove avremo tutta la mappa visibile, tutta quella che si potrà usare in gioco che è veramente questa ed è enorme, è veramente enorme ragazzi, tutta la mappa della Bolivia in gioco con alcune annotazioni scritte così tanto perma. Niente di che, oltre a questa abbiamo anche questa piccola busta dove all'interno ci saranno probabilmente delle sottospecie di insomma le cartoline con alcune dei posti della mappa che sono queste a forma di cartoline carine, niente di che comunque carine da collezione diciamo. Oltre a questo abbiamo le nostre cuffie quindi prese dal gioco con lo stemma di Ghost Recon naturalmente ragazzi con prese jack questo qua ragazzi, presa unica e poi trasformatore per i due jack in più qua abbiamo il pulsantino per disattivare e attivare il volume quindi muto no e per alzare il volume di gioco stile ragazzi, come che si possa prendere a soft air ecco, prese molto da gioco a livello diciamo militare carine e in più abbiamo il nostro teschio quello pesante, devo dire la verità comunque fate conto, grosso come la mia mano bello grosso, bello pesante dovrebbe essere, non so se è tipo un alluminio no, tipo un legno, un plastica molto rigida bello da vedere, è ben fatto comunque ben curato come potete vedere tutti lì i segni niente ragazzi io vi saluto adesso questo qua era il piccolo unboxing quindi della Collector Edition se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace commentate, ditemi la vostra e ci vediamo al prossimo video o la live di domani sera quindi bella ragazzi e bella lì hooah